Ancora il mare di Pescara tra i liquami a tenere banco sui giornali. Questa volta però la notizia finisce su un noto settimanale nazionale che per inciso arriva a rovinare l'immagine di una città attualmente impegnata ad ospitare una manifestazione di caratura internazionale. I giochi del Mediterraneo, manifestazione trasmessa in diretta nazionale solo tre giorni fa. Quello che è accaduto è che non c'è stato nessun attentato alla salute pubblica. Il mare di Pescara è assolutamente in linea con i dati dello scorso anno. Non vi sono fenomeni di dermatiti particolari, questo non lo dice il sindaco ma lo dice l'ASL che è normalmente il posto che si occupa di queste cose. La polemica sull'ordinanza di divieto di balneazione firmata e mai resa effettiva dal sindaco così come recita l'articolo già citato non si ferma e per giovedì è prevista una seduta di consiglio comunale ricca di scintille e discussioni. Ma il primo cittadino, come più volte annunciato, si dice sereno di fronte ad un caso strumentalizzato dalle opposizioni per fini politici. Giovedì io immagino succederà un po' di carnevale che aiuta a rendere così meno traumatico il rientro in ufficio dopo le ferie. Credo anche che sia molto strumentale questo alimentare, agitare lo spettro della paura volto a creare un consenso che però mi sembra basato su basi piuttosto fragili perché sono quelle del vuoto politico. Giovedì succederà questo ed altro però francamente la questione ci lascia piuttosto tranquilli.